Sono Gallo Gianfranco e sono nato nel 1950, a maggio del 50, facevo il postino, per più di 20 anni ho fatto il postino qua a Borghermata e sono nato a Borghermata tra l'altro, sono nato a Borghermata e per puro caso entrai nella Petagna Longa con Attilio Ventoruzzo che mi ha spinto a entrare con lui che conoscevamo dal distributore. E tu facevi le riprese durante la manifestazione? Sì, le prime volte che partecipavo come altri, avevo un superotto e facevo le riprese di questa manifestazione. Poi Attilio le acquisì e mi fece partecipare proprio per... poi sono entrato nell'organizzazione della Petagna Longa. come attivista, come operatore per le riprese. E questa per quanti anni è durata? Da parte mia, 6-7 anni penso che sia stata la partecipazione. Diciamo fino all'83 che mi sono sposato e prima di sposarmi ancora facevo paura, poi mi sono sposato e ho altri impegni e non ho potuto più seguire. Come erano le prime Petagna Longa? Le Petagna Longa erano proprio quelle Petagna Longa paesane, divertenti, proprio... come spiegarlo? Erano organizzate da persone con la passione fatta proprio per quello ed era solo un divertimento per le... per il Burger Mart era un divertimento, per le strade dove si passava e la gente metteva a disposizione il mangiare e altre cose spontaneamente, senza che c'era un'organizzazione particolare che lo faceva. Adesso la Petagna Longa si è un po' evoluta, fa tante cose anche durante l'anno... Sì, adesso è diventata un'organizzazione, una manifestazione a livello nazionale ed è molto bella perché aveva avuto un sviluppo straordinario. Però ricordando i tempi e le cose, proprio come si possono passare mille anni. Tu ancora oggi però ci sei dentro in qualche modo? Sì, 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 adesso come partecipante, come appassionato e come un ricordo bello che ho e trovo sempre nel cuore la Petagna Longa. Molto bene. Mi dicevi di Attilio Venturuzzo, che era un po' un artista, un personaggio importante, oltre che ha disegnato il piede che ancora oggi è il simbolo dopo 50 anni. Sì, Attilio era... non dico la mente, era un po' tutto della Petagna Longa, secondo me, secondo il mio punto di vista. C'erano anche altri personaggi molto importanti che facevano parte dell'organizzazione. Ma Attilio era particolare, Attilio era particolare. Attilio ha passato le notti nel fare delle cose per la Petagna Longa, Attilio si impegnava a tutti i livelli e senza mai essere in prima fila, come devo dire, senza mai essere protagonista nel presentarsi. Se ce lo dovessi raccontare, chiaramente non tutti l'hanno conosciuto, che tipo era? Attilio era un personaggio generoso, ma molto generoso. Secondo me, ecco, la cosa giusta a dire era generoso. Ed si prestava... per gli altri si prestava a tutto. Quindi nell'organizzare, lui piaceva organizzare, piaceva partecipare e dava sempre il suo contributo in tutte le occasioni. Mi raccontavi che era un grande artista e quindi disegnava, ma anche lavorava con le terracotte, mi dicevi. Attilio era un pittore, era uno scultore e si dava da fare in tutte le maniere. Attilio per la Petagna Longa lavorava su tutto, lavorava su tutto. E poi era anche un tuo grande amico? Sì, sì. A parte compare, ma era un grande amico Attilio. Quello che ha dato a me Attilio poi... beh, poi si entra nel personale, no? Come te lo ricordi mentre lui dipingeva questi... anche i pittorali? So che dipingeva i pittorali? Dipittorali, sì, sì, perché stavamo insieme pure... passava anche le notti. Oltre che doveva poi preoccuparsi del lavoro il giorno, le notti, quando era il periodo delle Petagne Longa, le anforette le dipingeva lui a mano una per una, le magliette le dipingeva lui, le targhe che si mettevano, i pettorali, le faceva a mano lui. Un personaggio straordinario. E il piede poi rimase famoso, il piede fatto al campo sportivo, e lui fece il disegno e poi i ragazzi finirono l'opera con la vernice. Pensi che sarebbe contento di vedere che ancora oggi la Petagna Longa va e probabilmente andrà ancora avanti? Sì, sì, ma lui sicuramente è contento, lui per il carattere che aveva, aveva piacere di vedere le cose, anche se poi non partecipava più perché per vari motivi i suoi familiari non poteva partecipare, però era lui il personaggio, secondo me, secondo il mio punto di vista, il personaggio della Petagna Longa era lui. Invece le tue riprese, dicevi che facevi le riprese con questa Super 8, poi venivano proiettate, dove venivano proiettate? Abbiamo fatto delle proiezioni un anno al cinema che c'era a Borghermara, dall'Ello Rossi, e poi anche abbiamo fatto al Piopeto, alla Sala da Ballo, il Piopeto, sempre il post Petagna Longa. E c'erano delle lotterie? E c'erano anche dei sorteggi, mi ricordo io, c'erano dei sorteggi di alcuni premi, ma adesso non ricordo bene tutta la situazione. Che si vinceva grossomodo? I doni che davano i commercianti per la Petagna Longa, una maglietta, un'ampora, adesso non ricordo tutto. Senti, invece, qual è il ricordo più bello che c'è della Petagna Longa, se tu dovessi guardare un po' indietro il ricordo più bello? Guarda, il ricordo non è un ricordo particolare, il ricordo era proprio la passeggiata, la passeggiata e la gioia di vedere le persone nei poteri che si davano da fare, si offrivano per rendere la Petagna Longa bella. Quindi ogni potere che andava trovava la gioia, la gente che metteva la musica per ballare e chi partecipava. Poi mi posso ricordare proprio i partecipanti, voglio ricordare dei personaggi straordinari che partecipavano, come Armandino Perziani, Romano D'Aurea, Angeluccio, il sassofonista e poi tutti i ragazzi. Adesso non faccio tutti i nomi, magari. Ma c'era una partecipazione spontanea e gioiosa che era una bellezza a vedere. Oggi tu sei comunque molto attivo anche sul territorio e fai tante cose. Come te ne immagini la Petagna Longa fra altri cento anni? Come potrebbe essere? La Petagna Longa fra cento anni? Adesso è una gara nazionale, adesso si vede che penso che continuerà ancora a far salire di organizzazione, adesso c'è un'organizzazione grande, bella da vedersi. E fa piacere vederla che ha avuto questo sviluppo, perché è partita per gioco e è diventata una gara nazionale importante, questa è bella da vedere. E questo fatto di far convivere la corsa polistica con la passeggiata, secondo te è una bella idea? Sì, 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 no, no. È stata una bella cosa. Prima era una marcia, adesso è diventata una maratona. No, no, è bello, è bello vederla così. È importante, è importante. Nelle varie interviste che abbiamo fatto qualcuno ci ha detto, visto che c'erano tanti squalificati perché non sapevano marciare, hanno deciso di fare la gara. Esatto, è vero, è vero. Perché alla fine se doveva squalificare sempre qualcuno dice è meglio farla a corsa e basta. Bene, vuoi dirci qualcosa sulle terracotte dove le andavate a prendere? Allora noi sempre con Roberto Verardo, voglio ricordare un'altra persona che è stata, erano tante, poi Roberto Verardo pure, poi abbiamo fatto qualche anno insieme come amici, abbiamo fatto dei viaggi insieme. Con Roberto siamo stati a Padova, andavamo a Sessaurungo a cercare sempre qualche ricordo un po' particolare da dare. Certo, non ci sono riusciti tutti bene, qualcuno non era proprio bello, però l'impegno c'era. Penso che il ricordo bello che c'è è quello che quando abbiamo fatto la targa, non so se è importante, però la targa fatta battuta in rame al posto della coppa, dalla solita coppa, dammo il suo piede fatto in rame a mano, battuta a mano, che è stata una... Dall'artigiano di Fossanova? Dall'artigiano di Fossanova, sì. Molto bene. In chiusura, se ti devo dire, lascia un pensiero alla Piedagnalonga, a chi ci vede, a chi ci ascolta, qual è il tuo pensiero? Di andare sempre avanti così e di prenderlo sempre con la filosofia del divertimento, come l'abbiamo fatta noi. Poi ci saranno altri ragazzi che adesso hanno l'età mia un po' più giovane, che sono anzianotti pure loro, ma loro erano dei ragazzi che correvano la notte per mettere a posto tutto, per fare dei lavori, quindi ce l'ho nel cuore ancora questi ragazzi. Qualcuno è morto pure, quindi mi è rimasto nel cuore. Ecco, e ce l'ho tutti nel cuore.